In definitiva, Cortellazzo ha finito per avere un ruolo più limitato di quello che sarebbe stato nelle sue possibilità di artista, proprio perché ha voluto rinchiudersi nella ricerca, raggiungere dei valori di profondità espressiva, dei valori di qualità, forse allontanandosi un poco da quella che era la battaglia delle correnti e dei movimenti contemporanei. Questo si deve tanto a quella riservatezza nella ricerca che è pari a quella che egli aveva nella vita, una delicatezza forse eccessiva di fronte ai problemi, ma è dovuta anche al fatto che egli sentiva molto la sua origine veneta e il desiderio di conciliare non tanto una specifica tradizione artistica veneziana, questo sicuramente no, ma una cultura veneta nell'esperienza che ha fatto della cultura europea. perché Cortellazzo è stato uno scultore estremamente raffinato, estremamente delicato nella sua espressione, estremamente accurato nella ricerca della qualità, ma anche è stato un grande lettore di arte contemporanea, un uomo che conosceva molto bene la storia della scultura e che in questa storia della scultura deve avere, come è giusto che abbia, il posto che compete alla qualità del suo lavoro.